ALT F4 Praticamente prendo l'uovo Pesso l'uovo E' una giardina Ok, tasto destro Oh, un goblin pare Tengo premuto il tasto destro E' in prima persona Tasto sinistro La sinistra giardina Ma stia, come prendo? E' per i pollici Con control si è tappisci Che stai giocando, caro? Canzone cringe Ma non ci arrivo da... Ma si metto così? E' l'Euphoria Basics di Dark Star Games Tu è morto direttamente Alunz Cosa sono gli Alunz, raga? Boh Ti ha detto, no, video I speak, frate Oh, bottiglia Ok Che stu cosa? Spontone ce l'ho? Mi dè controllo, caro Se... Non so... E' peggio che è male stu cosa Dì, da qua o da qua? Testemusolino Mora Ah, le galline possono fare tra esche praticamente Tipo così Un po' pare che è a dire Oh, guado Ma si è mangiato il caldo Vediamo in prima persona Ma cambia la fisica? No, è che è bassissimo E' che non si dà niente Oh, morì? No, 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 no Ok, ok C'ho pagato Sè Ma sei mora per l'acqua Ma... Ah, il quinto cavaliero Raga, se premio il TF4 Il video finisce Stiamo capendo Oh, ragazzi, hai caputo con questo ragazzi no, a c***a, non sono cominciò salti fisici con la fisica oh, a chi ha una, usa le mani e ti addi gli addi che ho aspettati a dire c'è arriva almeno il primo checkpoint ah, forse veramente caro tiglia che affare competitivo oh, femmo, fem... la discussione è che tu c'hai capito la palla che stava volando e poi morì un terra cioè praticamente ci vengono latteri o si rese conto dopo che stava morendo è una cosa psicologica posso fare di pocket mario? ma ora ti stai guardando praticamente già ghigliottina ma non c'era mai oh, oh scattia ah, il ragdoll è proprio R ah, ok, vabbè, dimmelo prima un secondo eh R ragdoll ah, slide, vuol dire scivola ok quindi ragdoll è R praticamente ok c'è di car per dire oh, piano, 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 oh chiasetta, scorsone e morì, ho due dicesimo cavalier hai capito ormai si addi ma quanto buono si addi oh no, fai, 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 fai ma chi è buttata? si, vabbè c'è peggio gt5, carotele si capisce niente oh oh vuolò cose cose delle pazze cose cose delle qualose oh, oh, oh no, bottighe c'è qualche addina d'oro oh, ma vino mercato nero mercato di polo diciamo pieno mazzaraido un pallone c'era ma si capisce ma se io piglio pallone da lontano ma ci arriva ah, il pigliare lontano è pigliare nooo, non mando niente non è un pallone non è un pallone non è un pallone guarda qua tiglia hai detto che fa fa peccicero eh se io faccio cos'è ah, non sei su cos'è ah, va, basta si, basta, basta ma non ce la faccio più ma non ce la faccio più ma non ce la faccio più ma ci sono le urge cavaliere infatti mi ne scomparivano ci sono le urge cavaliere ci sono ma non ce l'ho accuggito è un decennè un mortorio stai a attendere diciottesimo cavaliere le canzoni sono sempre più belle non posso non mi sciarpellare con quelle canzoni che mi metteranno ai video ok, spondono oh, pallone, c'è da oh, oh, no, no oh, ti ammazzo pezzè fermo oh che c'ha detto di trattare s'interno sempre le stesse cose mi dici non è capace che io ma fanno magari speedrun questo gioco questo leader sanno com'è ma non come ce la fanno le mani bombano nella testa oh, pallone mi fanno spondare che ero come a cavolo marino ma com'è fanno sta parte c'è una cosa non lo sa poi c'è un caldo io ci posso riprovare ma che ne sa c'è stare quando ecco c'è ora 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 BASTA BASTA